ciao ragazzi se seguite l'ottimo tutorial di matteo su come si smonta il carburatore per montare il 24 vedrete che lui praticamente toglie il coperchio della scatola del carburatore toglie il filtro toglie il carburatore stesso e dopo aver tolto il carburatore toglie proprio la scatola che c'è sotto il carburatore per lavorarla una volta tolta la scatola vi troverete quello che è il pacco lamellare una volta la bau lo chiamò parco lamellare in questa posizione praticamente sarà fissato con due viti taglio qui e qui e ci sarà invece una vite a croce qui ecco questa si spanna facilissimamente perché molto morbida quindi o avete l'accortezza di stare molto attenti nell'asvitare nell'avvitare o altrimenti procurate bene una nuova subito perché è da buttare via praticamente una volta girato questo si vede quella che è la lamella qui adesso c'è già una lamella in carbonio deve essere da circa 0 40 quelle che vanno bene per le star e la 0 30 per quanto riguarda il 150 normale la 0 35 che è questa con le scritte verdi per quanto riguarda i 177 e col carburatore 24 addirittura la 0 40 che invece ha un colore più scuro un marroncino circa il problema è che queste già pronte non si trovano per cui bisogna comprare diciamo il foglio da ogni foglio escono fuori quattro di queste ecco stati attenti quando le tagliate perché hanno un senso ha un senso di lavoro il taglio nel senso che la scritta polini deve essere praticamente orizzontale cioè non tagliate la così perché l'elasticità del carbonio è decisamente diversa e se la tagliate così coi due fori qua in alto si rompe subitissimo ecco questa qui va beh i fori sono affatti dall'altro lato ma non cambia nulla altra cosa è stata intagliata un po corta per cui poi i fori sono andati a salire per far sì che tutto il foro diciamo del pacco lamellare venga coperto qui in mezzo c'è un traversino traversino sì traversino no è chiaro che se togliete il traversino la quantità di miscela che va in camera di scoppio è maggiore e quindi dovrebbe migliorare leggermente le prestazioni io l'ho lasciato perché alla fine è una modifica non reversibile nel senso che se un domani decidete di ritornare alla classica lamella di acciaio armonico che è questa la sua originale questa ha lavorato per circa 20.000 chilometri e ancora in buono stato sicuramente potrebbe lavorare su un motore originale anche 50 o 60.000 chilometri poi c'è addirittura chi se la vede piegarsi leggermente non fa altro che girarla dall'altro lato e ricomincia la sua vita utile il problema della lamella in acciaio è che se per caso l'acciaio armonico si sfibra si rompe vi trovate dei pezzi di metallo che vanno in camera di scoppio e poi succede il disastro che potete immaginare il carbonio invece se anche si sfibra e si rovina danni non ne crea nel senso che l'unica cosa che la star non andrà e quindi dovete fermarvi metterne un montarne un'altra ecco tra l'altro io vi consiglio di portarne uno dietro uno di scorta perché queste due vitine sopra praticamente è meglio metterci del freno a filetti in quanto se anche queste si allentano sono dei dolori perché voi immaginate lo capovolto se anche queste finiscono in camera di scoppio è un problema normalmente come si tagliano questi si prende la lamella originale si posiziona sopra il foglio con una mattita si segue esattamente il contorno facendo una monolamella ovviamente non una bilamella perché se non lo si indebolirebbe parecchio il carbonio dopodiché lo si tiene fermo in qualunque modo riuscite e o con un trappanino a colonna o anche con un dremel cercate di praticare i fori dapprima piccolissimi poi pian piano li ampliate e via la cosa migliore se uno riuscisse anche a smussare bene i bordi magari con della carta vetro sottilissima però io ho visto che l'ho ritagliata quella che ho su semplicemente con la forbice anche se non è precisa precisa l'importante è che copra bene il foro ce l'ho su da 14.000 km e fa ancora egregiamente il suo lavoro detto questo credo che abbiamo finito